In autotutela abbiamo sospeso le cartelle 2011 e 2013 per quelli che arrivano oggi al front office e mentre quelle che sono arrivate prima evidentemente hanno già guardato e verificato tutta la situazione e questo diciamo le permette perché il front office dobbiamo dire che è una cosa importantissima dà l'opportunità alla gente di sistemare tutte le cartelle. La cosa importante è che noi stiamo facendo il discorso delle sanzioni che era la cosa diciamo più brutta perché il regolamento del 1999 aveva queste 154 ore e 94 centesimi che stavolta saranno soltanto applicate per quelle persone che non hanno mai pagato quindi per gli evasori totali perché noi dobbiamo capire che l'operazione fatta è soltanto per gli evasori totali quelli che non hanno mai pagato per evitare quello che può succedere perché nelle pubbliche amministrazioni purtroppo per quanto riguarda il federalismo fiscale dobbiamo andare a aumentare le tasse per alimentare il comune per evitare tutto questo noi dobbiamo andare a trovare gli evasori totali quindi anziché passare da un 7,5 per quelle persone che sempre pagano a un 13% quindi aumentare del 50% dobbiamo andare a trovare gli evasori così praticamente giustizia venga fatta per tutti. Questo è quello che stiamo facendo e l'operazione praticamente condotta a oggi con questa rettifica dà appunto l'opportunità anche a quelle persone che non hanno pagato o perché non hanno avuto i soldi o perché praticamente non lo hanno voluto fare anziché pagare le sanzioni esagerate visto il momento difficile e delicato che ci troviamo pagare le sanzioni per una solita immobiliare per un solo anno anziché per tutti gli anni quindi anche loro avranno l'agevolazione e pagano il giusto e un piccolissimo interesse. Per evitare ulteriori problematiche e quindi per evitare danni eriali noi il 2009-2010 l'abbiamo lasciato per quanto riguarda 11-12-13 noi tutti l'abbiamo sospeso. Quindi quello che stiamo facendo è semplicemente gli interessi dell'agente essere con l'agente perché noi siamo stati retti dall'agente e siamo il front office dell'agente quindi non dobbiamo far altro che gli interessi dell'agente. Il front office fatto a Borggetto ha servito praticamente attraverso l'agenzia che ha vinto con un regolare contratto che cosa? Dare l'opportunità alla gente di regolarizzare le partite, di chiarire le partite e dare l'opportunità alla gente di pagare semplicemente il giusto. Ripeto e sottolineo, noi pagare tutti per pagare tutti o meno. Questo è il concetto che noi abbiamo sempre applicato. Siamo con l'agente, siamo disponibili tutti i giorni a parlare con l'agente e a dare tutti i chiarimenti possibili e immaginabili. Tutto il resto è il populismo. Grazie. Che tempi si prevedono adesso per rimettere le cose a posto? I tempi previsti sono quelli già dettati. I famosi 60 giorni. Abbiamo fatto un ulteriore, l'ho fatto io personalmente. Dopo il 31 di maggio si comincerà a pagare chi deve pagare. Cominceranno ad arrivare, già sono cominciati ad arrivare tutti quelli che sono annullamenti a casa. Quindi l'agente ci arriva un certificato a casa dicendo che dal 2009 al 2013 quelli che l'hanno fatto prima di questo hanno azzerato tutto. Quindi l'agente deve stare tranquilla, serena, l'agente venendo qua ha tutti i chiarimenti. Sicuramente ci sono stati gli errori. Errori fatti dagli uffici, errori fatti dal catastro, errori fatti dall'agenzia dell'entrata, errori fatti dall'ufficio registro. Sono tantissimi errori che purtroppo accumulati hanno dato questo risultato. Ma soltanto facendo questo si poteva evidenziare, capire realmente quali erano le problematiche. La gente viene qua, capisce, dà le sue dichiarazioni, dà le sue motivazioni, porta praticamente alle cartelle pagate e evidentemente annulla tutto. Il problema è soltanto, lo ripeto, lo sottolineo, per quelli che non hanno mai pagato. Era solo questo, per evitare il pagare sempre gli stessi e pagare sempre, diciamo, di più in maniera esasperata in un momento così difficile e delicato. Noi in settimana abbiamo disposto i pagamenti per l'Ate e quindi come si può vedere in giro, anche con le ruspe, con le pale meccaniche, abbiamo provveduto a rimuovere i cumuli di rifiuti per il Paese. È chiaro che questo sarà un rinvio della problematica perché voglio sottolineare che sono state fatte delle campagne, diciamo, un pochettino distorte nei confronti dei contribuenti che hanno fatto sì, che hanno pagato soltanto il 20%. Quindi a noi manca più del 50% di quello che era l'incasso dovuto. È chiaro che il Comune in autotutela ha nominato un legale e quindi prenderemo provvedimenti nei confronti di chi sta creando questo disservizio. E voglio ricordare nuovamente alla collettività e alla cittadinanza che questo non è stato ancora deliberato e quindi non c'è nessun atto formale che permette ciò. Quindi chi ha pagato meno o chi ha intenzione di farlo sappi che questa mancanza di fondi diventerà poi una cartella esattoriale. Quindi lo stiamo dicendo per evitare che poi tra due o tre anni nasca qualche altra azione come quella che sta nascendo con l'agenzia EG che poi qualcuno casca dalle nuvole e quindi si sente perseguitato da questa amministrazione.